Agricoltura, tradizione e innovazione. Un binomio necessario all'agricoltura è una delle attività più antiche del mondo e, nel corso dei secoli, ha subito profondi cambiamenti. La tradizione ha sempre avuto un ruolo fondamentale in questo settore, ma l'innovazione tecnologica sta diventando un'attività. La tradizione agricola si basa sui prodotti e sui prodotti. L'innovazione tecnologica, invece, offre nuove opportunità per migliorare la produzione agricola. L'uso di tecnologie innovative, come la robotica, l'intelligenza artificiale e la sensoristica, può aiutare gli agricoltori a ridurre l'impatto ambientale, aumentare la produttività e migliorare la qualità dei prodotti.